Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati con Bloodborne, dunque sono ritornato qui, mi sono teletrasportato da lì perché onestamente avevamo 53.000 anime quindi mi sono teletrasportato con questo qui che mi ha riportato alla lanterna e dalla lanterna sono tornato qua come potete vedere ho un nuovo cappellino, veramente ho preso tutto il vestiario del cacciatore Cinerio più un altro che l'ho comprato con queste cose qui del teschio, la conoscenza del folle e praticamente va bene, ho messo solo il cappello e tutta l'altra cosa no in più come potete vedere abbiamo la spadone, questo qui che è uno spettacolo che si divide così e anche così si porta con due mani e l'ho potenziato, in più gli ho messo anche le rune ed è molto più potente ovviamente della vannaia quindi adesso che facciamo? ovviamente mi sono fatto anche i livelli come potete vedere siamo al livello 54 e abbiamo 23 vita, 23 resistenza, 23 forza e 22 abilità poi vabbè abbiamo gli effetti della rune, riduzione danno, aumento tempo e più vecchi dai nemici caduti come vedete l'arma è 229 mentre questa qui è 220 quindi 9 punticini in più che non fanno male però 144 più 70, 150 più 79 è anche molto più robusta in più scala BC è anche in arcano B mentre questa è tutto D onestamente di forza B e abilità C, ADD va bene quindi adesso ritorniamo ai boschi proibiti e dobbiamo rifare tutto il percorso arrivare da dove ce l'avamo lasciati ah mi sono dimenticato, devo andare un attimo alla cattedrale abbiamo sbagliato abbiamo liberato quel personaggio là andiamo a cattedrale world e c'è quel abbiamo mandato quell'altro personaggio eh? oh, non la vecchia quella vecchia è morta perché? cosa? doveva essere stata una pelva, sì? o credi che qualcuno là fuori abbia potuto... io... bene... no... 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 è morta la vecchia è questa è una pelva io... no... 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 la vecchietta ci ha lasciato c'è da dire se arrivi dov'è il tipo? va fuori se non sbaglio eccolo qua ah... salve di nuovo ti sono debitore è un luogo perfetto lasciano entrare persino i mendicanti come me e poi manteniamo le distanze proprio come dei bravi eh... 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 lascia che condividi la mia scorta segreta pastiglia di sangue di belva ok oh... ho davvero un grande di trovarmi una dimora oh... vabbè e boh quindi la vecchietta è morta lui e il pezzo mi sono andato qua e ritorno al sogno del cacciatore e andiamo e poi la vecchietta è morta ma chissà se è stato lui allora porsche proibiti allora grazie no 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 Ok, ok, ok. No! Ok... Ok... Cazzo, la trappola! L'ho evitata proprio a culo! Il cane è libero! Come fanno essere? Come fanno essere liberi? No, ma vedi la minchiata di sto gioco? Oh, il cane... Gli ho dovuto dare due colpi! Eh, niente, questo io non lo so che cazzo! No! No! Non lo so! Non lo so! Vada! A volte penso veramente, ma... Ma mi prende per il culo! Ah! Quando ho un colpo! E' quando ce ne vogliono 3.000! E' quando ce ne vogliono 3.000! Non lo so! Ma perché volete... Morire? Ma... Io vi voglio lasciar vivere! E voi volete morire! Va! 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 Viene! Viene! Oh, cazzo! Oh! Sì! Allora! Qua mi ricordo! Antinto-li dal go-go! Perché sennò... Sì! Allora! Vieni! questa è la parte seconda dei boschi proibiti ecco è pieno di sti uomini serpente, serpenti ma qua aggiungiamo forse la scorciatoia veramente gemelle di piedi delle stanque queste me le devo prendere perché devo potenziare la spada ancora ecco qua sì 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 abbiamo accionato ah quello non è nel pc eccola ah un volto nuovo chi sei e a quanto pare un cacciatore esperto sono volter il maestro della lega i membri della lega ripuliscono le strade dalla sporciome dovrebbe fare ogni cacciatore non ne hai abbastanza di queste belve miserabili di luma che uccidi questi mostri che ne pensi? vuoi entrare nella lega? entrare nella lega? bene hai risposto la nostra runa di Karril sì impurità le notti sono piene di feccia corro pensaci ora sei pronto per dare la caccia e caccia insieme ai tuoi compagni agli altri membri della lega ora c'è una per il giuramento della lega coloro che portano la sua runa vedranno i parassiti si dimenano nella sporcizia e sono la devono lo scopo della lega è eliminare tutti così dovrai continuare a cacciare e a uccidere questo e non aspettarti che il mondo comprenda il nostro lavoro ma ricorda e si aiuteranno lo scopo della lega è eliminare tutti così dovrà questo non aspettarti che il mondo comprenda il nostro lavoro e si aiuteranno e vabbè in i matti dato a 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 Torniamo di nuovo là per vedere sta runa che ci ha dato. Tant'è aperta e poi scendiamo sotto. Ma l'automata sarà andata di là. Nella parte di sopra. Bello. Ah, questa. E che mi dai? Potenza PV massima cooperativa più due. Ma... Ah, che cazzo? Oh, mettila, ma serve solo per la cooperativa. Allora se gioco in line, pensavo che cazzo mi dava. Ma ne mancano due. Vedete? Me ne mancano due. Signora? Ben tornato. Che cosa? Molto bene. Lasciami. Un cazzo. Molto bene. Lasciami. Eh no! Aspetta che ora me lo vengo a fare. 1.500. Quanto cazzo c'è ora? Qua tigione la paricola ho preso. Vabbè. Settecimila nove. 17.126 basta no? ma che cazzo 300 300 oh fanculo funziona come calmante ma che cazzo gli vendo mo do uno di questo ok ben tornato che cosa di molto bene lascia mi ah perfetto tutto 23 via ok aspettate un attimo che risponda a un messaggio mamma non so quando arriverà il messaggio ma abbiamo finito ma di mangiare più volte e ora siamo per il premio letterario per la mano non so non so ma Grazie a tutti. Ok. Andiamo a remortarci. Ok, qua andiamo a cavallo. Ok. 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 Okay. Attardo! Vai, presti, ci andiamo a potenziare la spada? Prima di fare tutto il casino qua e direi di sì. Alla prossima! guarda 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 Lasciano un cazzo di niente queste fottutissime selfie malefiche mamma mia che ma bordella qua stiamo ritornando indietro e a me conviene tornare indietro adesso perché meglio qua all'inizio via andiamoci a potenziare l'arma accendiamo a protenziare e poi dobbiamo per forza passare questo fottuto bosco eccola qua cazzo solo questa c'ho gemma del sangue del fuoco ah beh però aspetta no c'è questa qua allora rimuove rimuove e rimuove quindi questa ecco questa qua ed è una a fondo impatto attacco fisico a fondo quindi abbiamo questa e questa uguale quindi abbiamo questa e questa e questo qua recupero continuo la Va bene così, dai. Più 6, più 6. E com'è? Allora, ma non è 0 di 3. Ah, le cose, ok. Qua non c'ho niente e qua già ce l'ho. 170, più 138. Attacco speciale? Che cazzo è quello? Vabbè, poco importa. Possiamo andare. Via. 7000 animelle. 9400, eh? Non faccio niente, no. 9400, eh? Vabbè è sopra che sono già stato Ancola Si voleva trasformare il porco Oh Oh Ma a me non mi servono questi O mi servono le altre Ma qua non ci saranno a questo livello Bardello Qua si scende Eh bastardo A me ne giamella a Google E al ripeto non mi servono Hmm Dove è? Ah eccolo la Ah il serpentone gigante Ci sputa un beleno Arraffca No La moriamo Eccola qua Eccola qua Mare profondo Limpido Aumenta l'arstenza D'avvenenamento lento Buono Cazzo Questo è da mettere Vedi? In questa zona qua Ci vuole proprio questo Eccola Escorro tutto labyrinth ho tutto labyrinth o cazzo di bosco non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, sì, sì, un po' non ricordo. Allora... Un po'... Cazzo! Quel figlio di puttana mi ha scinto! Mare profondo, di nuovo! Cazzo! 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 Oh, ma hai rotto le palle! Dov'è quel porco? Cazzo! 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 Sparano metamorfosi anti-oraria, gemma del sangue arcana 3, demma del sangue della dembra 2, Sì, mi sa che qua c'è il boss, quello grande, che ha 40.000 anime. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Il ragazzo è andato, aspetta, aspetta. No, per qua mi sa che dobbiamo aprire un cancello. Vediamo. Qualcosa c'è un altro ascensore. Vediamo dove ci porta. Ah, sì, sì. Allora... Allora... E' un bastardo di merda. All'inizio. E qua, là c'è l'altra cosa, sì, sì. va benissimo. Va benissimo. Va benissimissimo. provarlo. Ecco qua. Così adesso ci andiamo a vedere tutte le cose che abbiamo preso. le rune e quant'altro. mo' vengo, eh. Mo' vengo, eh. eccola qua. E qua. E qua, come al solito, mi esba. qua. Poi... ci ha dato... ma allora... potenza energia massima più 10. Ah, buono. Quindi aspetta, io c'ho danno fisico. Aumento... qua. Ok. Togliamo questo. E mettiamo questo. Questo, invece, più vecchio del sangue dei nemici caduti. Mare profondo. Resistenza voleno lento. E poi... aumenta l'esistenza alla follia. Questa è la follia e questo... la resistenza a voleno lento. vediamo se c'è altro. Quello, no, 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 a posto. Ok, va bene così. Va benissimo così. Ok. perfetto ok ok allora adesso abbiamo questo qua e quello in fondo vai bella grande proprio ok mi amore va a fanculo lo difendeva la lapide perfetto quindi qua abbiamo fatto poi il porco è mi ricordo che c'era una strada la cazzo era un altro porco ragazzo no cazzo di nuovo qua sono io devo andare dall'altro lato porca puttana dove cazzo era la strada non riesco a trovare la strada eh no di nuovo qua da si bastarde son ah a cazzo niente dove cazzo era la strada non me la ricordo come cazzo si arrivava la eh perché qua c'è l'albero e la non ci arriva dalla parte di la non ci arriva niente niente non me la ricordo proprio ma scendendo sotto cazzo voglio abbaffanculo non c'è niente sì ma c'era pure una strada che ci faceva aprire un cancello grande che mi ricordo pure che c'era un cancello grande niente 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 qua dove c'era il maiale eh qua è il ponte eh qua è il ponte allora vada siamo stati ma qua c'erano sti rompecoglioni lago di solvente lago di solvente un'altra runa andiamo ad acqua c'è un altro porco c'è un altro porco eccolo là eppah imponente eppah 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 ora lo evochiamo e allora salutiamoci qui ragazzi e poi riprenderemo e vediamo cosa succede evocando sto Henrik di là mi sa che si apre il cancello e da qui si va mi credo al boss quindi salutiamo a tutti e ci si vede alla prossima con Alugarda Bloodborne